Segnale News Tra alcuni stranieri giunti sul posto i militi dell'arma hanno trovato il ragazzo che in evidente stato di alterazione psicofisica per sottrarsi al controllo dei militi si rivolgeva contro di loro con frasi minacciose e oltraggiose tentando poi di colpirli con calci e pugni. Il 21enne è stato immediatamente bloccato e tratto in arresto. Cambiamo argomento la pagina amministrativa. Pugno duro dell'amministrazione comunale di Ripi nei confronti dei trasgressori della raccolta differenziata. Con una nota il sindaco Zeppieri ha chiesto alla cittadinanza maggiore attenzione. Nei prossimi giorni, spiega il primo cittadino, scatteranno su tutto il territorio i controlli e le verifiche dei rifiuti conferiti nei diversi conteritori e sacchi messi a disposizione degli utenti. La pagina politica elezioni a Frosinone. Si è tenuto l'incontro tra il segretario cittadino del Partito Democratico, Norberto Venturi, e il responsabile cittadino di sinistra italiana, Gaetano Ambrosiano. Sinistra italiana sta avvaliando la possibilità di partecipare alla coalizione di centrosinistra in vista delle prossime elezioni comunali, essendo convinta della necessità di costituire una compagine compatta da opporre. Al centro-destra, Ambrosiano, rappresentato al segretario del Partito Democratico, però, l'intenzione di cercare di evitare le elezioni primarie e giungere ad una candidatura a sindaco che possa essere condivisa. L'amministrazione comunale di Frosinone, a seguito di un accordo stipulato con la GEAF, ha concluso l'attivazione delle nuove linee del trasporto pubblico locale, estendendo la rete del servizio con particolare riferimento nelle zone di periferia, sino ad ora non toccate dalla logistica pubblica. Già dalla settimana in corso, infatti, sono iniziate le nuove corse, grazie alle quali ora è possibile utilizzare il mezzo pubblico delle linee numero 4 e della numero 6, nelle zone di via San Liberatore, via Mola di Torrice, via Cannuccia, via Maniano, via Severino Gazzelloni, via Faito, via Colle Timio, via Fornaci, via Colle del Vescovo e via Pratillo. La pagina degli appuntamenti per la rassegna estiva del teatro tra le porte, domani in piazza Valchera a Frosinone alle 21, andrà in scena l'amico di Fred, storia fantastica di Fred Buscaglione con Guido Ruffa e Andrea Murchio, li vedete. L'amico di Fred rappresenta un connubio felicissimo fra una prosa di livello e la musica straordinaria del grande Fred Buscaglione, interpretato sul palco da Andrea Murchio, che oltre a recitare e cantare suonerà dal vivo il pianoforte. E concludiamo con la pagina dello sport calcio. L'esterno sinistro classe 1997 del Frosinone, Lorenzo Trello, protagonista della stagione nel campionato Primavera, pare sia nascita verso il Rieti per disputare il prossimo campionato di Serie D. Il giovane calciatore del Frosinone andrebbe a Rieti con la formula del prestito secco. È evidente dunque l'intenzione della società canarina di voler far fare una buona esperienza al 19enne e dunque valorizzarlo. Ultima notizia per il momento, a tra poco, con le notizie dall'Italia e dal mondo. Ultima notizia per il momento, a tra poco, con le notizie dall'Italia e dal mondo.